La caratteristica principale di Mira al Teatro d'Estate è la sua forte eterogeneità che vuole essere una vastità di proposte. Non a caso tocchiamo davvero tutti i target dal rock d'autore internazionale con due concerti sicuramente memorabili come Il ritorno dei King of Convenience, l'arrivo degli Arab Strap, uno dei più importanti gruppi della scena londinese all'interno di una tournée molto esclusiva in Italia, così come nulla da dire su Drusilla Foer perché già devo dire che è completamente esaurito, mancano pochi biglietti quindi evito a farlo però abbiamo scelto proprio davvero di farne un luogo che fosse una festa per tutti per cui non a caso abbiamo chiamato la Compagnia dell'Arancia con il loro musical per famiglie, devo dire delizioso così come un grandissimo attore, forse il più grande della sua generazione che Massimo Popolizio per celebrare con noi le bellezze del patrimonio archeologico di Pesaro un contenitore davvero dei mille colori, in questo senso l'invito è la scoperta e anche poterli fruire scoprendo cose nuove perché poi anche i prezzi sono sempre piuttosto abbordabili insomma un invito a vivere il parco con il plus di un contenuto così emozionante, divertente Rilanciamo con una nuova stagione, con una stagione un po' più compressa perché diciamo luglio è il mese dei festival soprattutto in Piazza del Popolo ma da fine luglio si trasferisce al fresco anche del parco Miralfiore dove normalmente si apprezzano almeno dai 5 agli 8 gradi in meno rispetto al centro della città quindi un ulteriore incentivo a seguire questa programmazione che tiene assieme una volta di più in un collage di partecipazioni la programmazione di Pesaro e di Amat con anche la collaborazione dei concerti dell'orchestra filarmonica Rossini e anche di Zero Crossing e anche del teatro Accademia che diciamo già dal parco nel parco nasceva lì diversi anni fa quindi da Drusilla Foer al lavoro rispetto al teatro di Rettale o Franca Mercantini insomma si potrà usufruire di una bellissima stagione anche quest'anno scommettendo appunto su una vera e propria arena recuperata che crediamo potrà essere anche proprio per essere calata in mezzo al verde la natura anche uno dei punti di forza della corsa verso Pesaro 2024 con la natura della cultura al centro